Ci lasciamo Civita alle spalle, siamo diretti a... Lago di Bolsena Siamo nel parco di Turona, siamo in una collinetta adiacente al lago di Bolsena Abbiamo preso una vietta che ci ispirava E un ciclista ci ha detto che c'è un bel percorso da fare Non è tantissimo a piedi, però è carino e ne vale la pena Anche se solo per un piccolissimo tratto Stiamo percorrendo la via Francigena In realtà la via Francigena è una via che parte dal... Regno Unito, precisamente Countbury E arriva, in Italia, Santa Maria di Leuca Andiamo a vedere il lago? Sì! Andiamo verso Monte Fiascone E poi continuiamo verso Marta Ci facciamo il lungo lago Signori Il lago di Bolsena Siamo dal lato di Monte Fiascone Questo è il lago visto da Marta Non ci entusiasmava molto il tramonto a Marta Siamo ritornati a Monte Fiascone Ma questa volta in un punto decisamente più alto Abbiamo scelto così a caso Vito Orchiano E magari mangiamo qualcosina qui Piccola curiosità A Vito Orchiano È stato girato il film di Monicelli L'armata Branca Leone Abbiamo appena scoperto dell'esistenza di un Moai Quindi andiamo di là E andiamo a vedere se esiste Cerchiamo il Moai Vito Orchiano Che pare essere Uno dei pochi esistenti al mondo Costruito dagli abitanti dell'isola di Pasqua Qua? Così dice Ma Susanna Se lo sopportati Oppure la... Adesso cerco di capirmi di più Capiamo, capiamo Non si vede Forse è buio ma Vedi? Ci appare lì Un Moai Comunque è bellissimo E pare che toccarlo porti fortuna Giornata bellissima ma distruttiva Domani vedrete Buonanotte Siamo diretti a Bomarzo Per una visita al Parco dei Mostri Detto anche Parco delle Meraviglie Per una visita al Parco dei Mostri